C'è l'omonimo stamattina, buongiorno Marco Buongiorno, buongiorno Benvenuto su Radio Amore Napoli, buon compleanno e allora Grazie, grazie Lo stiamo svegliando con una shakerata di applausi e musica, mi sa che sei svegliato da poco Marco? Eh sì, sì, diciamo di sì, diciamo di sì Va bene, va bene, mattinata tranquilla, insomma mi sembra giusto anche per il tuo compleanno Allora Marco, ti arrivano questi auguri di compleanno da parte di tuo fratello Fabrizio Che ha pensato bene, non solo di farti gli auguri, ma anche di farti vincere lo spumone del bilancione Eh sì, è stato veramente una bella sorpresa Fammi capire una cosa, quanto sei goloso tu? Io è parecchio Quindi questo spumone calza pennello, insomma Eh sì, sì, sì Perfetto, perfetto Tu come passerai la giornata oggi, Marco? Raccontaci un po' Sì, io nella mattinata comunque lavorerò Nel pomeriggio, nel pomeriggio che appunto avevo libero a questo punto Mi sa che farò un saltino al vomero, diciamo così casualmente E poi sono fuori di casa a festeggiare con la famiglia Eh mi sembra giusto, mi sembra giusto perché proprio lì dovrai andare a ritirare lo spumone del bilancione Messo in palio dal bilancione che ha questa sua nuova sede, quella più recente, proprio al vomero In una traversa di via Luca Giordano, a via Solimena, per essere precisi, la traversa di Troni Ok, che è molto facile così da ricordare Allora potrai andare lì, ritirare il tuo spumone e ovviamente quando ti ritrovi là a mangiarlo Pensa un pochino anche a noi, mi raccomando Eh certo, certo Va bene, grazie, grazie a Marco Grazie, grazie a voi Grazie ancora, auguri di buon compleanno E io ricordo, ricordo a tutti quanti voi che se volete fare gli auguri a chi volete bene Alla persona che amate, a uno sconosciuto a cui volete comunque fare gli auguri in radio Basta telefonare lo 081 552 5891 Oppure ci scrivete un messaggio in posta privata sulla pagina ufficiale Facebook di Radio Amore Napoli Per prenotare il compleanno della persona che volete bene Ci lasciate i dati, ci lasciate il numero di telefono, poi facciamo tutto noi Potete prenotarvi anche da qui a una settimana, eh, da qui a un mese Non c'è problema L'importante è chiamare lo 081 552 5891 O scrivere in posta privata sulla pagina ufficiale Facebook di Radio Amore Napoli